Ancora ha preso di mira il negozio di alimentari Marangio nel cuore del centro di San Pietro Vernotico. Attorno alle 2 di questa notte alcuni manviventi hanno crivellato di colpi di pistola la sala cinesca dell'attività commerciale, tanto da svegliare i residenti di zona, ma senza che questi si rendessero conto di ciò che stava accadendo. La scoperta è stata invece fatta dal proprietario verso le 6 di questa mattina, quando stava aprendo il proprio negozio. Immediatamente ha allertato i carabinieri della locale compagnia, congiuntamente al comandante di stazione Vincenzo Coriano, il comandante del nucleo operativo redemobile della compagnia di Brindisi, il tenente Emanuele Pepe e gli esperti della scientifica. Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza. Gli investigatori hanno rinvenuto una decina di bossoli sia sull'asfalto che sul marciapiede. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in quell'area. Per il titolare si tratta del terzo atto intimidatorio dopo le due bombe piazzate dinanzi alla bottega nell'ottobre 2022 e nello scorso 6 febbraio. I militari avrebbero escluso la pista del racket, starebbero seguendo invece quella privata.